Una lunga relazione, 31 pagine più 110 di allegati che contengono pesanti accuse alla gestione di almeno 27 anni alla Miteni di Trissino, al centro di una gigantesca indagine per inquinamento da Pfas, della Falda e delle acque di buona parte dell'Ovest Vicentino, di una parte del Padovano e del Veronese, che mette a rischio 127.000 persone. Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Treviso l'ha consegnata al Ministero dell'Ambiente, ma anche a Regione e Provincia e alla Procura di Vicenza titolare dell'inchiesta. Un racconto che parte dal materiale raccolto nelle diverse perquisizioni e che rileva come, fin dagli anni 90 almeno, l'azienda, ora acquisita dalla multinazionale tedesca International Chemical Investors, incaricò una nota società di consulenza del settore ambientale ad effettuare indagini per valutare lo stato di inquinamento del sito e a fornire possibili soluzioni per il confinamento della contaminazione. Nonostante ne avesse l'obbligo, però, Mitteni non avrebbe mai comunicato i risultati di quelle analisi alle autorità, analisi che già mostravano l'inquinamento delle acque e del suolo e della falda, con benzo, trifloruri e FOA. E questo perché la ditta avrebbe dovuto mettere mano, sapendolo, ad una pesante ristrutturazione dell'azienda e della rimozione del materiale. Una condotta omissiva, iniziata dal 1990 e proseguita fino ad oggi, che ha provocato conseguenze devastanti, visto che l'inquinamento d'affasse e altre sostanze ha contaminato la falda e provocato il deterioramento dell'ambiente e dell'ecosistema, con probabili ricadute sulla salute della popolazione residente, si legge, che per anni potrebbe aver assunto inconsapevolmente acqua contaminata. L'indagine della procura per ora ha ipotizzato i reati di adulterazione dell'acqua e inquinamento ambientale, vede iscritti nel registro degli indagati nove manager, compreso l'amministratore delegato Antonio Nardone e il presidente Brian McGline. La multinazionale tedesca ha però diramato un comunicato con il quale nega di essere stata a conoscenza dell'inquinamento dei terreni, prende le distanze dalle passate gestioni e rileva di aver fatto tutto il possibile per contenere l'inquinamento e i danni provocati dall'impianto di Trissino.